In studio Veronica Puglisi. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova edizione di MTG. Ancora più restrizioni, super green pass esteso a tutti i lavoratori e revisione della quarantena per i vaccinati con tre dosi. Sono alcune delle ipotesi che verranno discusse nella riunione del CTS nazionale e del Consiglio dei Ministri. Ieri, intanto, confronto del CTS regionale che ha evidenziato come sia necessario insistere sulle vaccinazioni e che gli ospedali accolgono per lo più pazienti non vaccinati. Cambiare le regole della quarantena per i vaccinati con tre dosi e applicare misure più stringenti. Oggi giornata inimportante per la lotta alla Covid. Da un lato la riunione del CTS nazionale e dall'altro un confronto in Consiglio dei Ministri. Servono nuove misure dalla stretta sui contagi a scuola, l'obbligo vaccinale per nuove categorie di lavoratori che potrebbero entrare in vigore a gennaio. Si ragiona su un green pass rafforzato per tutte le categorie di lavoratori, mentre da più parti si invoca un lockdown per i non non vaccinati. Intanto, ieri in Sicilia si è riunito il CTS regionale. In Sicilia si registrano 250 casi ogni 100.000 abitanti. L'incremento si è verificato soprattutto nell'ultima settimana. Aumento che ha riguardato tutte le province, in particolar modo l'area centro-orientale. Tanti focolai, 3.649 tra il 20 e il 26 dicembre. Ha aumentato anche il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione, già note. Quest'ultimo dato evidenzia la necessità di rafforzare le capacità di tracciamento dei casi e dei contatti nel ricostruire le catene di contagio. Sono alcuni dei dati emersi dunque durante la riunione. Numeri che fanno preoccupare, anche se a proposito di numeri, l'imponente campagna vaccinale ha permesso una maggiore protezione verso l'ospedalizzazione rispetto al passato. In Sicilia il rapporto tra casi settimanali attualmente ricoverati è di circa il 6% e la soglia di occupazione dei posti letto, il 10% in terapia intensiva e 15% in area medica, è stata appena superata. Le ultime stime e l'Istituto Superiore di Sanità confermano come la dose booster moltipichi le difese al rischio di sviluppare una malattia grave nel caso in cui si venga contagiati dal virus. Inoltre nel periodo 29 ottobre e 28 novembre il tasso di decesso tra i non vaccinati è stato di 23,4 per 100.000 persone, mentre tra i vaccinati oscilla tra 1,6 di quanti hanno ricevuto la terza dose e 3,1 di che ha fatto due somministrazioni. Dati questi che hanno portato il CTS regionale a chiarire ancora una volta come una più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce di età, il completamento dei cicli di vaccinazione e il ricorso alla terza dose che consente il mantenimento di un'elevata risposta immunitaria rappresentano strumenti necessari a contenere l'impatto dell'epidemia anche sostenuta da varianti emergenti. Il decreto festività ha di fatto sancito la fine del settore delle discoteche e delle sale da ballo. Lo affermano i vertici di asso intrattenimento che si sentono abbandonati dallo Stato senza neanche avere tutele. Circa 3.000 aziende nello spettacolo rischiano di fallire 200.000 lavoratori di non avere una occupazione a causa del nuovo decreto festività del governo. Nella 25 dicembre fino al 31 gennaio infatti le discoteche, i club, le sale da ballo e tutta la filiera dell'intrattenimento saranno costrette alla chiusura così come sancito appunto dal decreto legge. Una mazzata economica non indifferente così come denunciano i gestori delle discoteche nonché rappresentanti di categoria che chiedono almeno che ci siano ristori. Noi infatti adesso ci definiamo insacrificabili. Noi siamo stati il primo comparto ad essere chiusi a inizio pandemia il 23 febbraio 2020 e il 23 dicembre 2021 il governo ci ha fatto un regalo dopo varie illusioni dicendo che con la terza dose, con il green pass rafforzato, il tampone si poteva ancora tornare a una via e a una vita normale ha deciso senza preavviso di bloccarci, di chiuderci completamente. Vorrei ricordare che nel decreto è messo proprio che non si possono svolgere nessun tipo di attività all'interno delle discoteche e delle sale da ballo. Non può essere svolto nulla, quindi anche le scene spettacoli, anche i vari spettacoli. Senza preavviso, senza menzionare nessun tipo di ristori senza dire cosa fare con un comparto già massacrato di 3.000 aziende e quasi 200.000 lavoratori diretti e indiretti. Quali le vostre proposte? Le nostre proposte sono innanzitutto quello di fare un controllo massiccio per evitare che succeda quello che è successo quest'estate quindi che ristoranti, sale e ricevimenti, ville private, hotel ci sostituiscono soprattutto la notte di Capodanno. Ristori immediati, perché vorrei ricordare che soltanto la notte del Capodanno incida nel fatturato di una discoteca del 16-20%, soltanto una singola sera, che per quest'anno non sarebbe stato guadagno ma semplicemente un cercare di recuperare le spese già perse negli ultimi due anni e soprattutto avere la possibilità di avere dei ristori per ogni mese di chiusura perché comunque hanno sì detto fino al 31 gennaio ma ricordiamo che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo quindi non sappiamo quello che potrebbe succedere subito dopo. L'idea di rivedere la quarantena per i vaccinati è una strada giusta da percorrere. Di questo avviso il responsabile di epidemiologia dell'ASP di Catania, Mario Cuccia evidenziando che fare la terza dose con Moderna è un'ottima soluzione. Ridurre la quarantena per i vaccinati può essere una giusta strada da percorrere ma dall'altro lato serve aumentare le vaccinazioni. Lo afferma il dottor Mario Cuccia, responsabile del servizio di epidemiologia dell'ASP di Catania facendo un'analisi a un anno, praticamente, dalle prime somministrazioni del vaccino anti-Covid. Cuccia evidenzia come serve anche non avere paura del vaccino Moderna che in molti stanno rifiutando. È un ottimo vaccino, dice il dottore, che poi sottolinea come questi vaccini proteggono dalla malattia grave ma il contagio può avvenire lo stesso. Dobbiamo cambiare, puntare molto su quelli che sono le situazioni di maggiore fragilità per garantire la funzionalità dei nostri ospedali e del sistema nel suo complesso. Il modello americano prevede stop alla quarantena per chi ha tre dosi di vaccino? Sì, per chi ha tre dosi di vaccino e anche in una qualche misura, anche per chi ne ha due a distanza di almeno, non oltre i sei mesi. Questa è una questione che, diciamo, ci espone a qualche rischio, però è un rischio, secondo me, cancellato al fine di evitare che il sistema entri in una paralisi. Perché quando noi abbiamo, in questo momento abbiamo poco più di mezzo milione di persone che sono infettate, noi rischiamo nell'ambito dell'attività di contact tracing di paralizzare attraverso l'immobilizzazione di milioni di persone il nostro sistema. E questo ha un effetto sia in termini dell'efficacia del nostro sistema, anche da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sanitario. Quindi dobbiamo puntare sui soggetti che sono sintomatici e sui soggetti fragili, non dimenticando, soprattutto dalle nostre parti, che l'arma fondamentale comunque rimane il vaccino. A proposito di vaccino, in Sicilia si scappa da Moderna per quanto riguarda la terza dose? Tranquillizziamo le persone? Io personalmente ho scelto di fare, avendo fatto le prime due dosi Pfizer, di fare Moderna. Moderna è un vaccino che non ha nulla di meno, forse anche qualcosa di più, di Pfizer. Nonostante il vaccino c'è una larga diffusione del Covid, l'è accennato appunto all'Omicron, che prende soprattutto le vie aeree. Sottolineiamo infatti che il vaccino serve a proteggerci dalla malattia grave. Noi abbiamo richiesto, inizialmente, pensando che il vaccino fosse la risposta a tutti i nostri bisogni. I vaccini sono sempre stati costruiti per proteggerci dalla malattia. L'infezione ovviamente ne risente in termini positivi, cioè con riduzione, ma non da l'azzeramento. Boom di vaccinazioni negli hub, lunghe file per la vaccinazione già dalle prime ore di questa mattina. Da chi si è presentato anche un'ora e mezza prima dell'apertura, a chi ha preso un permesso straordinario dal proprio posto di lavoro. In migliaia in questi giorni hanno scelto di vaccinarsi. Lunghe file già a partire dalle prime ore della mattina, con gestioni costanti agli hub vaccinali. Nonostante le attese, però, questa è una bella risposta alla campagna vaccinale. Le lunghe file, determinate dalla forte adesione, però, non sono per tutti ad avere corsie preferenziali i bambini. Per la dose booster c'è da attendere, vero? Ma la risposta, da parte dei target, è stata sicuramente superiore all'affluenza delle scorse giornate. Se non mi riporta, prima mi vicino da, come si chiama? Che dà ci ho fatto tutti. Ora non so se c'è quello che mi fanno qua. Ma quant'è che attende? Io? Eh, 6-9 e mezza, così. Da quanto attende? Ma da un'oretta. Terza dose? Sì. Dalle 9. Però ne vale la pena? Spero di sì. Me lo auguro. Il vaccino è un ulteriore aiuto per contrastare questo maledetto virus. Siamo vicini alla meta, da quanto è che attende? Io dalle 9 e mezza di stamattina. Quindi quante ore? Quante ore? Sono le 11-2 ore. Signora, lunga fila, ma ne è valsa la pena, si è vaccinata? Sì, si è vaccinata, tutto a posto. Terza dose? Terza dose. Appena vaccinata è contenta, ne vale la pena aspettare. Sì, sì, è per tutelarci, per questo anche. Noi, cioè io e la mia famiglia. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha inviato al direttore dell'Asp di Ragusa, Angelo Alicua, una lettera per chiedere il potenziamento delle giornate per effettuare tamponi rapidi. Nella missiva si legge che attualmente il prelievo viene effettuato solo una volta a settimana, un'operazione chiaramente insufficiente per soddisfare le richieste di un'utenza maggiore. Il sindaco Aiello auspica che la richiesta avanzata possa essere accolta per venire incontro alle esigenze di un territorio vasto con quasi 70.000 abitanti. La città di Pozzallo non ha dimenticato di ricordare un suo figlio, un suo valoroso figlio, Saverio Armenia, che si è spento l'11 dicembre dello scorso anno dopo aver combattuto contro il Covid-19. Combattuto da eroe, sì perché lui era un operatore del pronto soccorso, ha contratto il Covid-19 e purtroppo non ce l'ha fatta. La moglie Arianna e i figli lo hanno voluto ricordare con una iniziativa che ha coinvolto tutta la città di Pozzallo. Prima una passeggiata in bicicletta ma anche poi un grande appuntamento con la vaccinazione. I pozzallesi non solo hanno avuto infatti l'opportunità di vaccinarsi. Iniziativa che ha preso vita nella piazza principale della città di Pozzallo, poi una cerimonia con la piantumazione di un albero d'ulivo in ricordo di Saverio Armenia e una lapide con una sua frase «Se fai una cosa, falla bene, altrimenti lascia stare». Riportarla un po' in tutte le magliette, nei gadget, nelle targhette. Un motto che lui ci ripeteva spesso e che ha voluto riportare. Suo marito è morto da eroe. E' il bene che ha lasciato un po' in tutta Pozzallo, in tutte le persone che l'hanno conosciuto, ha lasciato un pezzetto del suo cuore. Ad esprimere soddisfazione per l'iniziativa anche la figlia di Saverio Armenia. Molte persone lo ricordano appunto e sono felice che ci sia tutto questo, anche le pazioni azioni diciamo in piazza che sono venute molte persone, quindi sono felice di tutto ciò. Una bella iniziativa è il ricordo di un vostro dipendente, di un vostro collaboratore, ma anche un incentivo alla vaccinazione. Un infermiere che ha dato e dava delle soddisfazioni sia nei confronti dei pazienti e ben voluto da tutti i colleghi. Ottima iniziativa perché siamo alla terza dose e noi fino a ieri abbiamo fatto quasi 2500 pazienti con la terza dose. Ad oggi coloro che sono ricoverati nessuno ha fatto la terza dose, quindi il vaccino ci preserva. A ricordare Saverio Armenia anche il sindaco della città di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Quest'ultimo, essendo stato primario del pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica, ha avuto l'opportunità di lavorare proprio con lui. Con Saverio Armenia abbiamo lavorato tanti anni insieme ed è uno dei più grandi figli di questa città che è morto proprio sulle barricate. E sono soddisfatto anche come sindaco, perché questa città va a dimostrare ancora una volta di avere un grande capitale umano. Saverio era l'amico di tutti, così Antonello Mineo che ha organizzato insieme alla moglie il Memorial. Saverio era l'amico di tutti, Saverio era una persona, come dico sempre io, una persona che è simile, le puoi trovare, ma migliore no. Saverio è eccezionale, fantastico. Cambiamo adesso argomento. Restiamo sbigottiti dal pressacopochismo di Nello Musumeci e siamo fortemente sconcertati per quello che sarebbe a tutti gli effetti l'ennesimo rinvio dell'iter che dovrà portare al raddoppio della Ragusa Catania, che come sembra non andrà in gara nella giornata di domani. Lo dicono i deputati regionali Stefania Campo e Nello Di Pasquale a proposito dei 217 milioni di euro che la Regione aveva annunciato di mettere a disposizione e che invece avrebbero preso un'altra destinazione. Si paventa un dietrofront grave e pericoloso da parte di Musumeci, spiegano i due parlamentari regionali, di cui Musumeci stesso deve assumersi le responsabilità spiegandone le ragioni ai cittadini. Adesso la cronaca, un'area estrattiva abusiva di roccia lavica di circa 17 mila metri quadrati, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Catania nel comune di Randazzo. All'interno di una voragine profonda circa 15 metri, i militari hanno trovato massi in basalto già oggetto di lavorazione e pronti per essere utilizzati nel settore edilizio. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nel corso di un servizio orientato alla tutela ambientale, hanno individuato e sequestrato a Randazzo nel Catanese un'area estrattiva abusiva di roccia lavica, pari a complessivi 17 mila metri quadrati. In particolare, i finanzieri hanno individuato lungo la strada provinciale nel comune di Randazzo un'estesaria estrattiva, insistente sulla colata lavica del 1981. Le indagini hanno consentito di rilevare che l'area presentava una voragine profonda circa 15 metri, all'interno della quale, al momento del sopralluogo, erano presenti massi in basalto già oggetto di lavorazione, pronti per essere utilizzati nel settore edilizio. Le successive indagini, svolte anche grazie all'ausilio tecnico del personale del distretto minerario di Catania, hanno consentito di appurare che l'area è stata interessata tra il mese di marzo del 2019 e settembre 2021 da un'attività di estrazione abusiva da parte di una società, avente sede a Randazzo e operante nel settore estrattivo, che ha consentito di prelevare illecitamente circa 170.000 metri cubi di materiale lavico. Le fiamme gialle hanno dunque identificato due responsabili, il rappresentante legale e di fatto della società, segnalati all'autorità giudiziaria per violazione della normativa in materia di lavori effettuati in cave e miniere. Successivamente, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica, il sequestro dell'intera aria è stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania. Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, Vittoria sull'SP2 Vittoria Cate, dopo che nel sito del lavaggio vicino al distributore due operai, pare per effettuare attività di pulizia all'interno di un'autocisterna che trasportava gasolio, sono rimasti storditi dai vapori. Con delle maschere collegate agli autoprotettori, i due malcapitati sono stati tirati fuori e consegnati al personale del 118, che per precauzione aveva allertato l'elisoccorso. Viste le condizioni, sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale di Vittoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittoria e il personale del servizio di prevenzione dell'ASP di Ragusa. È presumibilmente di natura dolosa l'incendio che ha colpito un bar in piazza Majorana Comiso. Indagini in corso dei carabinieri. Interviene Confcommercio, che chiede all'amministrazione di verificare il funzionamento delle telecamere di videosorveglianza. Atti del genere sono inaccettabili, scrive immediata la risposta del sindaco Maria Rita Schembari. Indagini dei carabinieri per l'incendio che ha colpito nel corso della notte un bar di piazza Majorana Comiso. Un ruogo presumibilmente di natura dolosa, secondo gli elementi raccolti dalle forze dell'ordine, per le modalità con cui si sono propagate le fiamme. I danni sono ancora da quantificare. Quanto accaduto ha provocato la reazione del presidente sezionale di Confcommercio, Razio Nannaro, che in una nota esprime solidarietà al titolare dell'attività. In zona, sottolinea Nannaro, sono installate due telecamere che, se funzionanti, speriamo di sì, dovrebbero consentire di fare luce nell'immediato su quello che è accaduto. Atti del genere sono inaccettabili. Per questo, scrive, chiediamo all'amministrazione comunale di verificare il pieno funzionamento del sistema di videosorveglianza locale, finanziato a suo tempo dal Ministero dell'Interno, così che possa rappresentare un ulteriore elemento di deterrenza nei confronti dei malintenzionati. Su questo punto interviene il sindaco, Maria Rita Schembari. Quanto accaduto è chiaro che non ci lasciano né tranquilli né sereni nel commercio, farebbe cosa eccellente rivolgendosi alle autorità. E poiché quelle delle camere, essendo del Ministero dell'Interno, quando furono installate nel lontano 2010-2011, avevano un collegamento diretto proprio con le forze dell'ordine. Purtroppo, scaduto il periodo della manutenzione, non sempre sono state adeguatamente manutenute, che io sappia. Ad ogni buon conto faremo fare dei controlli all'ufficio tecnico. Altri bandi del Ministero dell'Interno sono stati avviati per l'acquisto, il posizionamento e la manutenzione conseguente di telecamere. Chiaramente non in tutta la città, non si può pensare ad una rete così capillare, ma nei posti nevralgici. E' iniziato ad Augusta lo sbarco dei migranti a bordo della Geo Barenz. La nave di medici senza frontiere ha raggiunto ieri pomeriggio il porto di Augusta, assegnato dal Viminale. Immediati tamponi ai 174 minori, di cui 143 non accompagnati risultati negativi. Cinque persone, casi medici urgenti, sono state evacuate e condotte in ospedale per controlli. Si tratta di due donne incinte e tre ragazze che presentavano alcune fratture e che dopo la visita sono rientrate sulla nave e trasferite di nuovo stamani in ospedale. Gli altri, dopo l'ennesima notte a bordo, stamani hanno iniziato a lasciare la Geo Barenz. Dopo lo screening anti-Covid, le procedure di identificazione saranno trasferiti sulla nave quarantena, mentre i minori non accompagnati nei centri di accoglienza. Il Codacons chiede ai sindaci di vietare i botti di fine anno. Ne parleremo subito dopo la pubblicità, a tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Il Codacons chiede ai sindaci di vietare i botti di fine anno. Secondo Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, i botti costituiscono un problema serio per la salute, in particolare per bambini, anziani ed animali. Basta con i fuochi d'artificio di fine anno. È quello che chiede Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons e docente dell'Università San Raffaele Roma, ai sindaci che hanno il potere, con un'ordinanza, di vietarli. Tanasi, nel chiedere anche l'intervento del ministro dell'Interno, ricorda che già sono diverse le città che hanno accolto la richiesta del Codacons, vietando i botti. Ogni anno i botti di fine anno causano centinaia di feriti, ma costituiscono anche un problema serio alla salute dei bambini, degli anziani e degli animali. Tanasi precisa che sono pericolosi tutti i botti, anche quelli legali, ma sottolinea come possano provocare un aumento pericoloso delle polveri sottili, superando il primo dell'anno il limite di legge di 50 microgrammi al metro cubo, fissato per il PM10, con un valore, a seconda delle città, da doppio e triplo rispetto alla media del periodo. Ricordiamo, scrive ancora il Codacons, che per ogni aumento di 10 microgrammi di polveri sottili, concentrate nell'aria, cresce del 3% il rischio di problemi respiratori tipici nei bambini. Ciò significa che se si arriva a 100 microgrammi, il rischio aumenta del 20%. I soggetti maggiormente a rischio, continua la nota del Codacons per la salute, sono bambini, anziani, asmatici, chi soffre di patologie respiratorie e tutti quelli che hanno patologie correlabili all'inquinamento. Inoltre è accertato che i botti fatti scoppiare in prossimità di un cane o di un altro animale domestico producono danni irreversibili che vanno dalla morte allo spavento, dalla follia ai danni all'udito. Sono 293 le pattuglie della polfera impegnate nella scorsa settimana nei controlli a bordo treno e lungo la linea ferroviaria in tutta la Sicilia. 26 treni presidiati, 2849 persone controllate, 7 veicoli ispezionati e 293 pattuglie. In tutta la regione la polfera rafforzata e dispositivi di controllo a bordo dei treni regionali a lunga percorrenza, dato l'aumento del flusso viaggiatori che generalmente si verifica durante le festività natalizie, è tenuto anche conto della normativa sul Green Pass rafforzato. Diversi bagagni e documenti dimenticati o persi e riconsegnati ai viaggiatori. Il 2021 si conclude in musica con il concerto di fine anno di Avis Modica, successo di pubblico e di critica per lo spettacolo realizzato in collaborazione con l'associazione Laboratorio Brunier di Lucca e patrocinato dal Comune di Modica. Interpretazione del soprano Maria Bruno, presentato un vasto repertorio dal classico del galà di fine anno sino alle note frizzanti di Broadway. Successo di pubblico e di critica per il concerto di fine anno organizzato da Avis Modica, ieri all'auditorium Pietro Floridia, un viaggio tra culture e continenti, l'America più vera ma anche l'Europa e poi Modica, un repertorio contraddistinto da un percorso che ha visto il classico del galà di fine anno sino alle note frizzanti di Broadway. Una serata realizzata in collaborazione con l'associazione Laboratorio Brunier di Lucca e patrocinata dal Comune di Modica. Ad esibirsi il soprano e presidente dell'associazione artistica e culturale Brunier Maria Bruno, ad accompagnarla la pianista Loredana Bruno, i musicisti Alessandro Caschetto, Federica Cappello, Raffaele Buscema, Giulia Nobile e Martina Monaca. Quest'anno abbiamo voluto un po' dare una novità a questo concerto, un po' svecchiarlo e infatti il titolo è da Vienna a Modica per Broadway, brani di operetta tratti dalla Vedova Allegra di Franz Lear, però puoi approdare a Modica con brani di Raffaele Buscema. Un ringraziamento particolare alla città di Modica arriva da Franco Tona, presidente di Avis Modica che ha tracciato un bilancio e sottolineato la vasta presenza dei donatori in città. Ci sembra naturale fare gli auguri a questa città così virtuosa e così solidale. Quest'anno ancora una volta abbiamo, tra virgolette, battuto un record. Abbiamo superato abbondantemente le 6.000 unità e i 4.500 donatori modicani riescono a sopperire a quelle che sono le necessità sanitarie e anche ben oltre, integrando quello che è il sistema raccolta sanco e regionale. Il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, ha emanato un'ordinanza di sospensione proprio per l'emergenza epidemiologica in atto di tutti gli eventi, feste e concerti che implicano assembramento sia in spazi all'aperto che in locali chiuse anche all'interno delle chiese. Dunque nel provvedimento rientra la sospensione del presepe vivente al Parco Forza. E adesso vediamo il presepe della famiglia Frasca che ci arriva da Rosolini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, si chiude questa edizione di MTG. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie a tutti.